Tornano i marroni e Combai può fare festa. E' questa la buona notizia della 71esima edizione della Festa dei Marroni di Combai, organizzata dalla Proloco in collaborazione con l'Associazione dei Produttori del Marrone di Combai IGP. Dopo alcuni anni di stenti causati dalla presenza nei castagnetti di un insetto che ha decimato la produzione, finalmente quest'anno si prospetta una buona stagione per il marrone, la cui raccolta dovrebbe attestarsi su una quantità di circa 400 quintali. Siamo veramente felici di questo perché abbiamo finalmente un prodotto che è ritornato alla ribalta perché in questi anni abbiamo patito tantissimo, è stata un'odissea tirare avanti anche con la festa perché non trovavamo materiale. Calda Rosta è per tutti dunque nella piccola frazione del comune di Miane, che fino al primo novembre ospiterà numerosi eventi e un ospite speciale. Il Riccio Combi che ogni domenica guiderà grandi e piccini lungo un sentiero attraverso i boschi di castagno per conoscere l'habitat naturale del marrone di Combai. Abbiamo trovato una guida turistica nuova che si chiama Combi, è un piccolo riccio che porta i villeggianti nel bosco e fa vedere tutte le storie che dà la natura, dalla coltivazione di marroni alla raccolta di marroni, alle api che producono il miele. Calda Rosta e non solo, la festa come da tradizione proporrà un'offerta gastronomica esclusivamente a base di marroni, riscoprendo alcuni piatti della cultura popolare come i mondoi. A Combai per esempio il piatto i mondoi è un brodo castagne, non i marroni, castagne, le castagne di meno pregio che venivano cotte nell'acqua, prima essiccate e poi cotte nell'acqua. Era una minestra che un tempo molto povera perché non costava niente, per tutto l'inverno veniva utilizzata dalla gente. La festa dei marroni di Combai è uno degli eventi principali della rassegna delizia d'autunno, promossa da UMPL in collaborazione con la provincia di Treviso e rappresenta un appuntamento autunnale tra i più partecipati e conosciuti del Veneto. Questo grazie all'impegno dei volontari della Proloco che da 71 anni portano avanti questa tradizione. Il Veneto è famoso per il numero di associazioni di volontariato e il numero di iscritti alle associazioni di volontariato. Senza il volontariato molto probabilmente in regione non si coprerebbero, ma non solo in regione Veneto, anche penso a livello nazionale, tutti quegli servizi che lo Stato molte volte non è in grado di dare oppure non è in grado di pagare. Quindi un grazie a tutti i volontari.